E allora, Ministro, prendiamo il bello della differenziazione, che si inizia a capire che l'impatto di questo virus non è lo stesso né per tutte le zone né per tutti gli italiani. Se io le dico la data del 4 maggio, lei conferma che potrebbe essere quella, al di là degli scaglioni, al di là delle professionalità o delle età o del genere delle persone coinvolte, potrebbe essere quella la data decisiva della ripartenza? Grazie. All'utilizzo dei test, il rafforzamento dei Covid ospita, la sanità territoriale, altre dipenderanno chiaramente sempre dal comportamento dei cittadini, che è e resta l'arma straordinaria. Io mi auguro che il Paese arrivi pronto a questa scadenza del 4 maggio e che da quel momento in poi possa iniziare una fase graduale. Ma lo ribadisco, non sarà in un istante ritornare alla vita di prima, sarà iniziare una fase diversa, che in qualche modo ha già dato anche qualche primo segno, perché qualche prima riapertura, anche più simbolica, ma io credo importante, c'è stata già in queste ore, che porti il Paese fuori da questa stagione. Però oggi siamo ancora dentro una fase complicata, non dobbiamo dimenticarlo, ecco, guardare al domani è giusto, progettare il domani è doveroso, ma con i piedi ben piantati nell'oggi. E l'oggi è ancora un momento di grande difficoltà e abbassare la guardia potrebbe farci pagare un prezzo enorme e potrebbe persino farci bruciare quel credito che in qualche modo abbiamo costruito. E vanificare le cose buone fatte finora sarebbe un errore non accettabile e non sostenibile. Che non ci perdoneremo mai, grazie.